Per prenderci cura del ficus la nostra pianta deve essere innaffiata due volte la settimana nel periodo estivo, dove la temperatura più alta aumenta la necessità di idratazione. Nel periodo invernale quando le temperature si abbassano è sufficiente innaffiare il ficus una volta ogni 15 giorni circa. Mantieni il terreno della zalea uniformemente umido, in modo che non si asciughi mai completamente e non rimanga mai eccessivamente bagnato. Le piantagioni soleggiate generalmente richiedono più acqua rispetto alle piantagioni ombreggiate, che non si asciugano così velocemente. Uno strato di pacciame organico da 3 pollici aiuta a trattenere l'umidità del suolo e impedire che la temperatura della terra uscille. Controlla a mano il terreno intorno alla tua zalea e annaffie quando è asciutto al tatto. Innaffie profondamente e accuratamente, in modo che ogni pianta riceva acqua pari a circa 1 pollice di pioggia settimana in estate. Innaffia lentamente, in modo che l'acqua venga assorbita nell'area delle radici invece di defluire. Evita di annaffiare eccessivamente le zalee. Il terreno fradicio favorisce la malattia delle radici. La pianta di arancio sopporta bene la siccità ma se la si vuole rigogliosa e soprattutto si desidera un'abbondante fruttificazione, a loro occorre irrigare abbondantemente nel periodo di ripresa vegetativa che va da marzo a ottobre, avendo però cura di lasciare asciugare bene il terreno fra un'irrigazione e l'altra. Il banano va annaffiato con generosità in primavera e in estate, specie nelle giornate più affose. In generale il terriccio dovrebbe risultare sempre umido. Quando in estate fa molto caldo, l'aria è molto secca e non piove da un po', gradisce delle annaffiature sulle foglie. Le grandi foglie andrebbero anche pulire periodicamente dalla polvere che, inevitabilmente, si poserà. Possiamo usare un panno morbido inumidito. Grazie a tutti! Grazie a tutti!